Buongiorno a tutti, io volevo fare questo intervento perché a favore dei volontari che stanno cercando di proteggere e di difendere i Mufloni del Giglio. Ora i Mufloni del Giglio sono una razza bellissima che ha nel suo DNA la sua specificità, la sua straordinarietà, la sua unicità, per cui una volta che si eradicano questi verbi nobili ma che di nobile non hanno niente dal loro territorio, si estingue un bellissimo animale, sempre e comunque poi tra l'altro a colpi di fucile. Ora bisogna pure pensare che 70 anni fa li portarono lì gli esseri umani per abbellire quelle zone, non è mica colpa loro se stanno lì. Per cui anche un risvolto di questo mio intervento umilissimo e piccolo è quello di fare un'invocazione a fermare questa decisione orribile che accompagna tante altre decisioni simili a questa come quella per i cinghiali che restano una razza innocua, ma come noi se si sente minacciata, se si sente e vede un fucile puntato, se deve proteggere i suoi piccoli, se ha paura, ma soprattutto se deve mangiare, vedi la mondezza per terra, vedi il cibo lasciato come rifiuto per terra, poi reagisce, ma solo in quei casi. E poi è stata moltiplicata questa razza di cinghiali sempre dall'uomo per suo uso e consumo. Quindi alla fine non solo una morte ingiusta, ma anche contro un essere vivente, senziente e completamente innocente. Allora, c'è però da dire un'altra cosa rispetto a tutto questo. Questi fatti che riguardano gli animali dovrebbero assurgere a simbolo di un grado di civiltà. E non è civile affrontare un problema di sovrappopolamento che resta comunque un problema sempre e comunque di ecosistema, perché le razze anche selvatiche degli animali anche selvatici servono, servono per mantenere un certo equilibrio. E sparargli addosso vuol dire alterarlo questo equilibrio. Allora, allora, io non dico che tutti debbano avere, raggiungere come è successo a me, una coscienza del fatto che togliere vite, credendosi i padroni di quelle vite, non sia assolutamente corretto, perché gli animali sono i nostri coinquilini e vengono prima di noi su questo, quindi con altri diritti, con più diritti di noi. Ma comunque l'idea che sacrificarli per un mercato della carne, per un menù, quando è anche dimostrato che è un mercato inquinante, sacrificarli per una ricerca fallace e non investire niente in una ricerca che non preveda torture sugli animali, sacrificarli per uno sport, un presunto sport. E vuol dire togliere vite perché uno vuole fare un rito, vuole fare uno sport, mi sembra assolutamente inaccettabile. Allora arrivo al dunque, io non sono nessuno, vorrei essere qualcuno, ma non per il mio lavoro, per essere più utile a questa causa, vorrei essere Leonardo Di Caprio, vorrei essere un nome importante per poter essere più utile, però nel mio piccolo io dico che non se ne può più di vedere poggiato sulle spalle solo di qualche volontario che prende il suo trenino, il suo aereo come fosse un eroe e si va a occupare di un problema che dovrebbe essere un problema specifico proprio, proprio della politica, che invece non fa niente, se ne frega, in mezzo al tanti menefreghismi nostri della gente, allora io dico, tutte voi associazioni che litigate spesso e volentieri e senza alcuna utilità con questi litigi, noi che amiamo gli animali, io che nel mio piccolo faccio l'uso di Facebook in questo modo, me ne frego se qualcuno dice ma che è un santone questo? Me ne strafrego, perché io credo che in quest'ultimo quarto d'ora che mi è rimasto può valere quel poco di riconoscibilità che ho, la missione dei diritti degli animali, la missione dentro, nel seno di una transizione ecologica, quindi la missione di veicolare questa preoccupazione che la casa è di tutti, poi anche di quelli che se ne fregano, che è il nostro mondo, la salute del nostro clima, ma invocherei insomma alla costruzione di un nuovo soggetto, anche politico, perché la politica serve poi come strumento per fare, purtroppo nonostante questa politica. Chiedo a viva voce proprio che associazioni, persone che amano gli animali, persone interessate a questo tema che poi, per dirla in modo più volgare, significano anche voti, eh, tanti voti, faccio un'invocazione precisa, perché tutti questi soggetti, individui interessati agli animali, a un nuovo rispetto della natura e di tutte le vite, si associano finalmente per dare vita a un soggetto che operasse per per questi temi. Grazie.